A voi tutti una buona domenica delle palme, una domenica delle palme primaverile, perché le temperature un po' in tutta la penisola italiana aumenteranno ancora un po', soprattutto nei valori massimi, ma non solo. Avremo il rischio di nuovo di foschie e nebbie nelle ore più fresche, qualche nuvola bassa possibile, soprattutto nella prima parte della giornata, però comunque tempo tranquillo primaverile e, come detto, piuttosto mite. Quindi, cari amici, godiamoci, tra virgolette, questa domenica delle palme dal sapore primaverile. Ma attenzione, con l'inizio della nuova settimana l'anticiclone si rinforzerà di nuovo ed avremo ancora tempo tranquillo. Poi vedremo nei giorni di Pasqua cosa succederà. Probabilmente ci sarà una netta differenza tra nord e sud e il centro appunto nel mezzo a monitorare la situazione. Ma staremo a vedere, c'è ancora tempo. Buona domenica delle palme, arrivederci.